musica 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 vai come prima eh vai io sono a 73 metri da iniziate a correre io sono a 118 iniziate a correre gli ultimi due secondi ci fa scattare si si io sono già con le dita premute bravo dobbiamo noi siamo su abbiamo lì si tu vieni con me ora crimine 1 vai teniamoci a destra dai certo io purtroppo ragazzi sono una posizione veramente di merda oh mi sono già arrivando da guardando smettetevi un medico nella mia posizione ciao vabbè aspetta minchia ma stanno attaccando tutti da allora crimini rimani qua faccio un mega blitz improvviso vai sono io dalla nostra parte per ora resistiamo però uno ha bucato due hanno bucato dalla nostra parte tre quattro stanno plantando da noi mi sono finiti i colpi raga sono morto io raga tranquilli che ve li ho sbilanciati però sono tutti subì a come provo a splantare come fai a splantare non c'è nessuno dalla nostra parte comunque crimini ci possiamo sbilanciare anche noi ok guardate 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 si 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 tranquke ma che me l'ho mazzato vabbè te lo lascio senti te lo sono senti Passatemi Sono morto Voi tenete più o meno le stesse posizioni Più o meno Si si Lu spawno su di te Ti lascio il medikit Vado sulla sinistra Li vado a prendere Ah eccoli li vedo Ma cosa? Mi resti? Non posso se non si può Merda Sono al lato della strada io Assurdo I crimi da dove? Non assurdo Dalla corticina Rick occhio Venite qui Subito Arrivo Rick Quanti ne hai? Dio ai tuoi di non venire qua Non c'è grande a caso Ok va bene Ero io comunque Che comunque erano i soldi Rischiano di prenderci Sono tutti qua Tutti nel corridoio stanno Nooo merda merda Lu da la ex bomba Tanti tanti Grande grande Perché lo spawn è così alto? Ah le danni li vi ha spavate Ah perché Si ma vabbè Rianimato Lo so thanks Non andiamo a farci fottere subito quelli Assurdo Arrivano da Rick Lo so lo so ci sono io dall'altro numero Nooo Cremi Mantieni la posizione Vieni a prendere la posizione Siamo un granate Mille granate Ecco il pronto soccorso Coprimi Passano dalla vecchia bomba Quella che esplosa Si si ma ci sono ieri No Sto passando da dove c'era Sto passando da voi Doug No no ci siamo noi Lo troppi qua Si si però stanno arrivando Arrivo Rick Noi il skill è crashato Nooo Cremi è crashato Cosa facciamo? Aspettiamo Cioè Continuiamo Li vado a prendere Cremi coprimi il corridoio Ok Vai Occhio da sinistrale C'è che crasha sempre C'è avrà un problema di linea Era brutto tempo Tanto io ho ucciso David Evilman che cecchina Vedava un problema Ottimo Rick Ce la fa skillo tornare Doug O ci fermiamo? Tornate Tornate Ok Tornate Da noi è una bucata Sono un bucato da Doug Ci sono tutti dalla me Lu girati Lu girati Lu girati Da te Da te Dalla ex bomba Grande Grande Ce n'è più di uno Lu Cremi mettiti in posizione stronza Affidati Eh Se ci riesco ad andare Ho dovuto tornare in posizione Torno in posizione io Vai Oh Come l'ha fatto? Oh Nell'angolo 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 Noo Danny Ma senti guardando a Ragazzi Mi ha ucciso Danny Si però ha dato che era scoperta Io vi ho guardato un attimo da voi E non so come hanno fatto passare dal corridoio Noo E' andata E' andata Togliamogli i ticket raga Va bene cerchiamo di fare polizia Rimanete avanti Si e boh Ce la siamo fatta male il primo step Cerchiamo di interagirci Statta la prossima però Si Doug Ok Guarda nella mia posizione Codisco Sto qua era immobile per essere uno Ho fatto un errore 09 Di a Luca eccetera di andare subito in posizione Io raccomando quella posizione Ok ok Doug Vai subito in posizione C'è qualcuno davanti a me che non dovrebbe esserci Io vi metto a le due Perché Schillo davanti a me? Chiava Schillo Doug Non dovrebbe essere là Lo so lo so Stiamo accoprendo a voi Lo siamo a posto Vi richiamano e fallo andare in posizione Ale ci sto io qua al limite Cioè il vivo Va bene va bene Rick non è in posizione No Rick va in posizione Vai in casa Cecchino Ti scorto io Vado vado Lo sto scortando io Luca tu guardi anche con questa porta? Io guardo la porta di fronte a me e basta Eh la sto guardando anch'io Occhio Rick È salito uno nel tuo palazzo eh Rick Eh ho visto Coprimi Te lo vado a prendere Te lo vado a prendere Sta sul tetto lo vedi? Sì Perché cazzo è andato? Ah ma sto qua è passato Sto passando da dietro Sto facendo il giro Da? Sì stanno Sto passando dal palazzo dei cecchini Sto facendo il giro Doug fanno il giro dal palazzo dei cecchini Ok Eh Sto in posizione tutti Io li sto inseguendo Però li ho persi Merda Io ne ho presi 3 Ok ci vado io Sono lì Ok Doug Doug non li trovo più Sono sulla bomba Sono sulla bomba Sono sulla bomba Sono su anima Sto uccidendo Il limite È una mano agli altri Io li sto secando tu Ottimo ottimo Grazie Doug a posto erano in due Hanno Dani è morto da solo di suicidio Mentre però stava cinque No problem No problem Torno a fare un po' il liberetto io Vai vai Dai io ne sto secando un po' Vengono ogni tanto ma Ti lancio un medici TV e di lui Eccolo Attento Crimio ora dovresti vederli tu Perché vanno avanti e indietro Sì sì stanno bazzicando li vedi Ti saltellano adesso sì Eh dammi una mano Sparagli anche tu Ti do un medici TV Ti do un medici TV Ce l'hai qua eh È arrivato pronto a soccorre Mi stai hitando Mi stanno sparando Arrivo Una è passata nel tunnel giallo raga Da me Uno dal tunnel giallo Doug Rick ti stanno venendo a prendere Mi hanno ammazzato raga Ok Fa lì venire Creamy tieni la posizione Sono in troppo Vedi la posizione Non mi resta Tieni la posizione qui Ma allora Dai lì C'è uno in mezzo al mercato Si Eh Luca C'è uno in mezzo al mercato Si Quello l'ho preso In mezzo? Si Penso l'abbiamo segato L'avete segato con le mezzo al mercato Doug No Ci stanno dentro il negocio Credo C'è uno in seconda posizione Mi sono due a prendere Morto al palazzo Doug Ok Allora, ma a me lo sanno che sono Provo a cambiarla Sentendo quella un po' più sulla destra Vado più indietro allora Sta salendo uno nel palazzo d'angolo Isto ormai Tu stai li lei Tentano di fare la cosa di prima Sì Mi si vede dei movimenti Sì Stanno prestato da Dugg Dugga c'è uno dietro di me Sto dove c'è uno di voi Stai seguendo L'ho tolto dalle palle Occhio un altro Da dietro hanno fatto il giro dietro Ho chieppato uno e mi hanno ammazzato l'altro Mi ha fatto salendo sopra le scale Anzi è sceso giù Sto aspettando Sto aspettando Occhio 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 Nell'ho preso un camminato Dove prima L'hanno fatti fuori Stavo plantando Oh cazzo cecchino Lui in quel tempo la strada Cerca di tornare alle se riesce anche tu L'hanno preso da Dugga Dovresti metterti medico perchè sanno perdiamo di cattino Ma perché che ticket sono indifesa Che ticket prende per esempio Ma allora Dova raga c'è gente ci sono io Ci sono io su Ci sono io su Dugga No Dugga Sulla bomba sulla bomba Sulla bomba Grazie Mi ha preso di nuovo il cecchino Restami Dugga se puoi Sono sulla bomba di Dugga Ok Dugga Appena rispondi sei sulla bomba di Dugga Qui tu non serve a questo punto Picchino troppo fuori Ok Ok No problem Torno Vai Ale Porta dietro qui Occhio snippo Beh Ma 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 non faccio niente raga Si perchè ha lo spawn Ma è mazzato Non hai fatto niente io Non ci credo Si preso Oh Sono morto Sono morto Creamy Torna in posizione blocco Ma no Non è È scoperto Lu Ora ok Stanno plantando Lu Ma hai dici Ma ero morto io Sono splanto morto di nuovo Che ci posso fare Aspetta aspetta Ora la splanta Copritemi Io sono morto Non posso coprirsi Beh Non ci credo Non me la splanta Non me la splanta Non me la splanta Creamy Mi ha preso Mi ha preso Mi ha preso Tutti su Ma ragazzi siete fusi Ok ok arrivo Siete fusi Luca Ma va sotto Creamy ce l'avevi A un passo dalla faccia Gli ho uccisi Si fatti esplodere con la granata Va bene Lu Chi se ne frega No una minchia No un cazzo Chi se ne frega Farsi fare così veramente mi giro un po' i coglioni Ma io stavo splantando e mi ha preso Ma c'è la gente dietro da splanti mentre c'è la gente che ti guarda Vai Oh raga dobbiamo più o meno tenere le stesse posizioni Comunque Ok Mh Mh Si più o meno Io lì non ci sto più Mi sa che un po' una merda come protezione Arma che lo sanno No No Punto di dietro in tempo nel bigono Questo Sì ma guarda Luca spingono dal via Un po' una lanciata Una granata Tacito Ok E' presso di più lì Proviamo così Una scuola di serra Ok Degare il rumore di un bigono però lo sento Eh Io anche Anch'io anch'io Ma non è una mia data Ce l'hanno loro Hanno uno spawn beacon Si L'ho distrutto Eh no Diciamogliela Da dove? Ragazzi Mi sento solo io qua Occhio Sono in mezzo al mercato L'ho uccisi un bordello io Poi mi sento un po' solo E' reale No Non lo so Stavo leggendo la chat Facendo mille cose Ma io so Grazie Hai preso il cecchino? Si si C'è un altro ancora in mezzo a qualcosa Dov'è che loro Ho capito dove stanno Qualcuno che copre dove ero io prima Che c'è una dietro a me E' che ci fanno 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 Eh? Dove sono gli alberi? Che cazzo stanno facendo? No Si sta muovendo Sono in mezzo al mercato E' uno in mezzo al mercato Il supporto Cerco di prenderlo Preso Io sto guardando Che c'era l'auto Le prese No Sta coberto Faccio esplodere Eh ma ho preso il nostro porto Mi sono lontano Arrivo 2 Grande No Cazzo Mi sono uccidendo appalato Da questo Che cacchio è da Che sparo Reggiamo Vi prego Reggiamo Ah Madonna Come pressa la tua tag Da C4 sua? Si è pieno Sto nel corrido 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 Non lo vedo Ammazzateli lì Arrivo Si si Mi faccio un bel giro Troppa gente Lo vedo da mia mappa Che c'è un cumulo pazzesco Ma chi è? Pro mai ho lì è posto non ho fatto un po' di roma non ho preso il numero l'uomo non ho mai fatto non ho fatto la posizione preso la mia ho preso il titolo di sbd non so se ne arrivano altri un po' quello, un po' quello ecco, è sponato arrivo io, crimi, arrivo è sponato, mi ha preso dal vicolo secondo me con lo sponbico è sponato, è sponato dal vicolo ho nel mercato l'altro non li faccio uscire preso un altro testa di cazzo, ce l'ho sponbito un po' vicino e l'avete detto ce l'ho sponbito? si, occhio, esce lo snippo da dire, drole va preso no, va preso lo snippo, non sono uscito l'ho mancato il primo gol e dove è lo snippo? alle vecchie bombe preso morto ho finito i colpi io c'è più di uno snippo, sono morto, pure ma con otto ticket non fate la splantaria raga, arrivano dal mercato, dag aspettatevene un bel gruppo comunque usano lo spawn beacon ufficialmente uno l'ho preso oh, uno l'ho preso ma noi, io sento di qua ci sono il giro da dietro il video da davanti si fanno il giro da dietro vi fanno il giro, dag occhio da dietro beh, il giro da davanti non credo ora gliele andiamo a prendere comunque qua non è che lo lasciamo liberi così eccoli là no, merda, mi ha preso all'ultimo raga, io sono in mezzo alla strada se mi restate gli faccio il cielo sto per morire morto crimi, crimi, crimi ti devo restare un attimo in mezzo alla strada se c'è il rio morto, ti sei tolto non mi sono tolto raga, dovete tenere di brutto minchia, crimi non andare troppo a pangara da dietro, mi ha lanciato la granata, basta mi mancano 6 tipe merda, mi ha preso al piccolo giallo raga, c'è il piccolo giallo avviso a Dug e ne sono 3 stai andando da plantare, vai col C4 vai col C4, Dug 2 su 3, sta arrivando 1 arrivo, arrivo dai, stai gatti 2 mi stanno restando a fuoco presi, presi cazzo cazzo durissimo puttana